Ciao a tutti e benvenuti su Digital Best. Eccoci qui con un altro video della serie 5 imperdibili gadget per la tua auto che trovi su Amazon. Come sempre anche questa volta mi sono impegnato per voi a selezionare i migliori e più utili gadget e accessori per la macchina. Se vuoi supportare il canale lascia un bel like e mi raccomando iscriviti se non lo hai ancora fatto, attivando anche la campanella per non perderti le prossime novità. Prima di iniziare vi ricordo che proprio qui sotto in descrizione vi lascio i link alle offerte dei prodotti che vado a presentarvi. Questo oggetto così compatto e portatile è uno strumento che incorpora diverse funzioni utili alla manutenzione della macchina e non solo. La cosa più interessante secondo me di questo gadget è che include anche un compressore per l'acqua che potremo attingere anche direttamente da una bottiglia o da un secchio tramite un tubo che troviamo già in confezione. Include anche due lance per l'acqua di cui una con spazzola e serbatoio aggiuntivo per eventuale sapone. Quindi è un kit completo per il lavaggio della macchina e di tante altre cose. Ma non è finita qui, infatti troviamo anche dei morsetti per la batteria perché questo incredibile gadget multifunzione è anche uno starter. Con un picco di corrente massimo di 400 ampere e una tensione di 12,6 volt in grado di far ripartire la batteria di auto a benzina fino a 5 litri e diesel fino a 3 litri. E poi grazie alle uscite usb e anche un power bank per i nostri dispositivi mobili con una capienza di tutto rispetto 10.000 milliampere. Infine nella parte inferiore c'è un triangolo rosso disegnato per segnalare eventuali emergenze. E questa è la versione 4 in 1 da 143 euro circa. Poi c'è anche la 5 in 1 che si trasforma anche in un compressore ad aria per gonfiare le gomme dell'auto e molto altro. In questo caso il costo è di 199 euro circa. Davvero ingegnoso e sono sicuro che in tanti vorrebbero uno strumento simile in macchina o in box. Vi lascio il link all'offerta in descrizione. Mentre si guida la macchina non bisogna usare il telefono mi raccomando a meno che non siano chiamate in vivavoce o tramite un auricolare. Ci sono molti kit vivavoce in vendita e questo che vi propongo è molto economico circa 20 euro. ed è stato studiato per essere anche comodo e versatile. C'è un gancio magnetico che possiamo collegare all'aletta parasole, una posizione ideale per le telefonate in vivavoce, e poi possiamo agganciare l'apparecchio principale semplicemente appoggiandolo, grazie proprio ai magneti presenti che lo terranno saldo nella sua sede. Si connette al telefono tramite bluetooth e include la tecnologia per la cancellazione del rumore di fondo. Tramite un doppio clic su un tasto possiamo anche attivare l'assistente di Google e Siri. È ricaricabile e la sua batteria da 650 mAh garantisce fino a 16 ore di conversazione continua oppure fino a 10 ore di musica. Infatti questo vivavoce è anche un piccolo speaker che grazie alla sua compattezza e leggerezza possiamo portare con noi ovunque per ascoltare la nostra musica preferita. Via bluetooth oppure anche da una scheda di memoria da inserire nell'apposito alloggiamento. Può connettersi simultaneamente a due dispositivi e dai suoi tasti controlliamo il volume, le chiamate e l'attivazione degli assistenti vocali. Vendutissimo e molto apprezzato su Amazon. Vi ricordo che costa 20 euro e che trovate il link in descrizione. Ecco un supporto per smartphone molto interessante da diversi punti di vista. Questa versione si aggancia alla bocchetta dell'aria e può ruotare di 360 gradi. Include la ricarica wireless per gli smartphone che dispongono di questa tecnologia che ci permette di ricaricare il telefono semplicemente appoggiandolo sul supporto al quale naturalmente va collegato il cavo di alimentazione. L'altra particolarità interessante di questo supporto è il suo meccanismo di chiusura automatico grazie alla forza di gravità. In pratica appoggiando il telefono sul supporto il suo peso farà chiudere i ganci che terranno lo smartphone saldo nella sua posizione quindi senza necessità di agire manualmente. Pensate alla comodità con una mano sola appoggiamo il telefono sul supporto e al resto non dobbiamo più pensare. Davvero geniale. Ce ne sono anche altri modelli con le stesse funzioni e che si agganciano al cruscotto con la classica ventosa. Ho scelto questo da presentarvi perché è uno dei più venduti con migliaia di recensioni positive. La dash cam è una videocamera che registra la strada mentre guidiamo e che in molti casi fornisce una testimonianza inoppugnabile sulle circostanze di un incidente. Quella che vi propongo ha una telecamera aggiuntiva con risoluzione 720p da posizionare posteriormente in modo da filmare anche la strada dietro di noi. La telecamera anteriore invece ha una risoluzione di 1080p e ha uno schermo IPS da 4 pollici dove vengono mostrate le immagini in diretta anche di entrambe le videocamere. Ha la funzione di visione notturna, la registrazione loop con la quale registra continuamente sovrascrivendo i file più vecchi quando arriva alla fine della memoria, il G-sensor che può rilevare una collisione e proteggere il video corrente da eventuali cancellazioni involontarie e anche il monitoraggio quando la macchina è parcheggiata che grazie al motion detect può iniziare automaticamente una registrazione in caso di movimenti sospetti. La videocamera frontale ha un angolo di visione di 170 gradi mentre quella posteriore di 120 gradi. Accetta memoria micro sd fino a 32 gigabyte. 54 euro circa il suo prezzo vi lascio il link in descrizione. Infine ecco un set di due organizer per auto da inserire nella parte laterale del sedile anteriore. In pratica questo semplice e ingegnoso gadget aggiunge un vano laterale utile a contenere gli oggetti che portiamo sempre con noi. Quindi mazzi di chiavi, smartphone, occhiali da sole, penne, block notes, caramelle, monete eccetera eccetera. In modo da averli sempre a portata di mano. Questo modello è in finta pelle con cuciture a vista e il set di due pezzi costa circa 30 euro. Bene e questo era l'ultimo della lista. Mi raccomando vi ricordo ancora che trovate tutti i link alle offerte di questi imperdibili gadget proprio qui sotto nella descrizione del video. Se vuoi supporta il canale con un bel like, condividi il video e iscriviti se non lo hai ancora fatto. Mi raccomando attivando anche la campanella per non perderti le prossime novità. Un caro saluto a tutti e alla prossima. Ciao!